è il nostro corpo fortino buonasera a tutti quanti buonasera a male e padre buona alla futura montata non è venuto condà nessuno buonasera non è venuto guarda buonasera facciamo un saluto siamo in live vai questo è un ragazzo molto dolce che vende il miele vedi prendi il mio ragazzo molto dolce guardate che dei bossi che abbiamo qua signora buonasera bella cosa vai grazie a tutti